Nannino, tu sei proprio questo lama qua, pazzissimo! È brutto pervertito? Molto bello! Sì, 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 assolutamente... No, no, assolutamente niente, ma sei solo un pervertito. Scherzo! Per oggi siamo disgaesati negli scherzi per trollare, per scherzare il nostro amico Gabri... Il mio, sì, certo. Il nostro amico Gabri è anche il tuo. Ma dove sarà andato a finire, Gabri? Dovremmo forse tipparci da lui? No, no! Sì, sì, con il lama. C'è un lama gigante che gli va addosso! Ma scusate, ma perché non si avvicina? Oh, 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 forse qua abbiamo trovato una cosa... Aspetta un attimo, aspetta che la mia teoria deve essere esatta. Cioè, deve essere esatta. Forse lui, Gabri, ha paura. Adesso, a parte che secondo me adesso è... Ma è un po' morto. Sì, perché allora praticamente noi gli abbiamo detto sempre che è la vanilla e noi gli abbiamo ancora detto che in realtà era uno scherzo dallo scorso video. Vi ricordate quello della scorsa settimana? Ecco ragazzi, praticamente adesso se io faccio... Sì, 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 se faccio finta di volare, in teoria lui dovrebbe pensare che tipo è inv. E lui si spaventa per... Perché praticamente... Vi ricordate che praticamente la scorsa volta è successa tutta una cosa un po' strana, no? Cioè tipo praticamente si era presentato inv nel suo mondo dove c'era il dio lama. Oh, nonno, ma se io sto parlando una cosa, tu devi star zitto! Scusa, scusa. Vedi, vedi, vuole picchiare, quindi vuol dire che proprio ha paura dei lama. Allora, disguisiamoci da qualcos'altro, disguisiamoci da chicken, se no? Praticamente continuerà sempre a scappare, non va bene. Ok, perfetto, da chicken va bene, perfetto, ok. Molto buono, molto buono. Ovviamente dobbiamo stare anche attenti, perché adesso abbiamo pure... Cioè tipo noi ci potremmo trasformare in qualsiasi persona che possa esistere su Minecraft con il disguis. Che mi vengono tanti, in mente tanti youtuber, ma non mi trasformerò in nessuno di loro perché... Poi dopo mi sembra brutto, è come se dovessi tipo sfruttare le views, un qualcosa di questo tipo. Cioè è brutto, è brutto. Invece, tu stai parlando basso, ma te sei deficiente. Ma te sei deficiente. Dai. Vabbè, cerchiamo di concentrarci, no, no. Stupido. Stai provando a picchiarmi. Mi sa che l'ha ammazzato. No, dai, no, che mostro. Ma hai dato un picchetti, cioè un pugnetto, un pugnetto da pollo pure, una lata in faccia. Hai scritto che l'ha utilizzato te però. Sì, vabbè, tanto non legge, tanto è stupido, Gabri, non ti preoccupare. Vediamo un attimo dove sarà finito, anzi, lo tipo qua tanto è stupido, ripeto. Dai, no, lo noto, dai. No, non lo nota. Adesso si farà finta, tipo, oh, ma cosa è successo? Cosa non è successo? Tipo, eh, vedi, 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 guarda. Ti sta picchiando, eh. No, mi sa... Ah, porca miseria. Nonna, aiutami, aiutami. Fai qualche diversivo, fai un diversivo. Hai ragione, hai ragione, facciamo una cosa. Ok, perfetto. No, lo trolliamo, facciamo. Io mi trasformo da cat, da cat, da gatto, perfetto. Ora sono un gatto, un gatto pure volante, peraltro, no? È proprio importante avere un gatto volante in casa. Sì, chi è che non vorrebbe avere un gatto che vola in casa? Io sì, ovviamente. Sì, sì. Nonno, tu cosa stavi facendo? Stai parlando da deficiente? Sì. Proprio così, da deficiente. Com'è il parlare da deficiente? Il parlare... Scherzo, ovviamente. Cioè, nel senso, solo per nonno vale questa regola. E per altri miei amici che registrano come ma. Solo per quelli che registrano. Invece quelli che parlano basso non sono deficienti, tranquillo. Gabri, cosa staresti? C'è Gabri, nel senso, non ho ancora spostato. Però, forse vorrei spostarlo. Però non so se può parlare. Eh, se puoi. Allora, spostiamo. Gabri, ciao. Gabri? Gabri? Eh, un po' così. Rispostiamolo via. Via. Ciao, ciao, ciao. Ok, l'ho rispostato nell'altra stanza. È importante evitare di... No, perché ragazzi dovete sapere che a volte tutti nella casa hanno delle difficoltà uniche. Tipo Gabri. Ok. Però adesso io vorrei fare di nuovo il troll. Ok, troll. Così. E poi dopo... Void. Ah, adesso cade giù. Oddio, no, guardalo, guardalo. Esatto, cade. E poi c'è pure stato il fulmine. Cioè, ti immagini che paura che si è preso, tipo. No, ma punto. Ma io faccio un altro. Eh, esatto. C'è tipo il fulmine. Poi dopo lui che scende giù verso il centro della terra. Cioè, a me si sta cagando addosso. A me sì. Cioè, può essere... No, ma sei stracattivo, cioè. Cioè, ma io mi spaventerei... Ma guarda che c'entri anche tu in questo scherzo. No, io non scendo, mi dissocio, poverino. No, non ti dissocio e poi parla più forte. Sennò poi dopo ti devo... Non lo so cosa devo fare. Devo infilare la torcia su per il sederino d'ape. No, no. Eh, vabbè. Molto terribile come cosa. Molto terribile. Soprattutto perché poi la torcia brucia. E poi ti immagini... Mamma mia che cosa è vero. Prende fuoco la gallina lì, l'ape. Ma ti c'è... Scusa, l'ape e la gallina è la stessa cosa, secondo te? Sì. Sono più o meno uguali, dai. Ma uguali identiche. Sì, 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 sì. Ma proprio uguali identiche. Io l'ho ritippato di nuovo e sono un gatto che però adesso non noterà, ti prego, non fai che non nota. Disguiset in qualcos'altro. Ok, non ha notato, per fortuna non ha notato. Mamma mia. Mamma mia, cos'è che hai detto? Mamma mia, sì, sì, ho detto mamma mia. No, secondo me è deficiente, ragazzi. Scrivete non deficiente in chat. Cioè in chat. Ovviamente in chat dei commenti, no? Scrivetelo. Sì, sì, sì. Proprio così, ragazzi. Scrivete non deficiente perché tranquilli, lui non si offende. Però, insomma, è un po' più... Invece sì, mi offendo, non fatelo. Oh, ehi, ti devo... Doco, cosa? Non ho detto mica nulla, io sempre. Non ti offendi, giusto? No, no, ma va là, ma assolutamente. Ah, ok, perfetto. Era, no, era il caso che tu dicessi non ti offendi. No, perché sai come i commenti sono importanti, no? Giusto, no? È per quello che... Lo so, sì, sì, lo so, sono molto importanti. Ecco, allora non ti offendi, giusto? No, 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 ma va là. Ok, perfetto, molto bene. È importante questo, anche perché poi lo fanno in modo scherzoso, ti vogliono tutti bene, nello sappiamo, anche perché tu hai 390 anni, che che non ama un nonno. Ah, no, scusa, 96. Mi dai di più dopo, mi offendo. Eh, no. Con Femi posso offendere, però. Sì, no, infatti con te sì, ma quindi tu hai solo 96 anni, mi sembra strano, sai? Sì, 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 96. Ah, ok, va bene, scusa, non sapevo, pensavo ne avessi leggermente di più. Mi dai di 300 in più. Sì, vabbè, poco importa, cioè nel senso, dopo tutto. Beh, c'è la differenza, però. Ma insomma, più o meno. Io lo dè? Mi vuole la mia terra. Guardalo. Ok, perfetto, adesso. Ah, io mi disguiserei da... Scusa, mi stai parlando addosso? No, sì. Ah, ecco. No, perché se dicevi di nuovo no, ti bannavo davvero, eh. C'era la tua fina. La tua fina, proprio così. Allora, adesso mi disguiso in... In un blaze, no, in un blaze, così gli faccio paura, tipo, arsh, shh, shh, proprio così fanno i blaze, capito? E poi, eh, tipo, charge, fire, questa cosa qua, tipo, adesso gli sparo pure. No, dammi la charge, mamma mia, che pa... Cosa è successo, aiuto? Allora, se io faccio una cosa, perché non va? Cioè, perché io voglio solo fare una cosa... Ma no, c'ho lui, muori, schifoso! Oh, se ne accorge, se ne accorge. No, non se ne accorge. No, in postia, allora, fire, ti prego, dimmi che va. Deve andare, deve per forza andare. Eh, perché... Non sta andando. Aspetta, se faccio... E fallo esplodere, posso fallo esplodere? Non stai zitto. Sto facendo una cosa importante. Perché non sta andando, non sta andando. No, no, mi sto innervosendo. Mi sto... Non sta andando. Dai, lo posso farlo esplodere, per favore. Vai, fallo esplodere, fallo esplodere, esatto. Va bene. Il blaze e gli esplogeni vanno... Eh, dai! Guarda, c'è molto malissimo. Però non ha fatto nulla, dai, non ha fatto danno all'esterno. Allora, adesso lo sposto di nuovo, perché forse funziona. Ciao, Gabri. Eh, sì, ciao. Allora, dimmi un po', cosa stai facendo? Stai giocando al vanilla? Eh, sì, sto giocando. Però, prima mi è uscito in chat che Dunice mi ha ammazzato. Ma davvero? E poi stanno succedendo cose strane. È un bug, è un bug. Eh, mi sembra strana questa cosa. Come mai? Io sto sospettando, eh. Ma non sospettando, ma perché dovresti sospettare di me? Ma era un bug noto. C'è un bug molto noto. Scusate, ma voi due dovete parlarvi addosso. Cioè, siete deficienti, comunque. No, perché io qua, Gabri, sto registrando. Sì, sì, sì. Ma no, praticamente noi qua stiamo registrando una cosa che riguarda... Ah, sì, sì. Eh, tu ti avevo detto quel progetto segreto. Sì, sì, va bene. Eh, quindi niente. No, niente, ti avevamo spostato per questa cosa qua. Quindi mi stai dicendo che sta... Sai che comunque Yv potrebbe entrare nel mondo, no? Pure qua? Sì, sì, sì. Perché comunque dato che è un hacker, no, può entrare dovunque. Va bene, ok, ciao. Ma è deficiente. Ma sei offeso, tipo. Ho sentito un suono un buono poi. Aspetta, aspetta che lo... Eh, no, questo è stato il mio ex. Vi chiedo scusa adesso, insomma, ce le... Ma perché mi devo chiamare? Ma veramente, ma l'Apple Watch... Ma... Oddio! Che c'è successo? No, no, scusate, scusate, ma qua stanno... Qua stanno succedendo cose strane. No, perché... No, no. Allora, no, no, io ti giuro, mi sto incavolando il nome nero. Perché? Perché l'Apple Watch adesso deve suonare? E le persone, quando iniziano a mandarti un messaggio, si devono mandare 30 messaggi di fila, perché portati quella miseria! Ah, adesso spacco tutto! Brucialo, 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 cioè, è l'unico modo, secondo me. Ma ti sembra che so... Guarda che io mi sto davvero nervosendo, eh. No, allora, no, scusate. Cioè, basta un messaggio, invece le persone mandano 30 messaggi di fila, perché non hanno niente di meglio da fare nella... Eh, però... Scusa, ma hai messo tutto questo quadro, scusami? Sì, sono io, sono esattamente io. Ah, no, perché mi preoccupavo leggermente, no. Non me l'aspettavo questo quadro, vabbè. Scappo, scappo! Ok, scappa, comunque. Niente, vediamo di far succedere una cosa, tipo, cosa stai dicendo? No, scherzo, nulla, nulla, nulla. Ma te sei deficiente, comunque. Guarda che dopo se vedo una cosa strana, poi dopo mi nervosisco, eh. Cioè, vero? No, 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 non ho detto nulla, non ho detto nulla. Ok, perfetto. Sì, poverino, è morto, è morto. Eh, però, no. In realtà, no, in realtà è vivo adesso, strano. Ma come ho fatto? Ma probabilmente non lo so. Eh, l'ho pushato, hai visto? L'ho pushato. E poi ora posso anche... Sì, 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 l'ho pushato, cos'è, Fortnite. No, no, attenzione, devo picchiare Gabri. Devo, dobbiamo tirargli le frecce. Avete visto? Questo arco praticamente è potentissimo. È importante avere un arco potente perché... Eh, ma avete visto, porca... Cosa ho fatto? Ma no, no, ma tu mi hai appeso tipo una cosa strana. Ma poi pure te ti sei mutato. Ok, io non registrerò. Eh, c'erano le voci, c'erano cose brutte. Mi dispiace, non potevo. Ma tu senti le voci, ma che sei, ma... Cioè, hai... Sì, sento le voci, no. Hai un disturbo, ma non so. Cioè, veramente. Siamo in disturbi psicotici quelli che... Dove senti le voci, le cose. Sì, esatto. Cioè, nel senso... Vabbè, insomma. Comunque, Gabri, eh... Sì. Niente, in questo momento è la... Cioè, è via, è via purtroppo perché... In senso, ok, non lo sposteremo mai più. Mai più, ok, perché poi dopo... Se ne è andato tutto stizzito prima, non so se l'hai sentito. Quindi, vai, questo è, questo rimane. E quindi noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.